Con le leggi deliberate dal Parlamento italiano a favore dei diritti delle donne dal 1946 al 1996, l'Italia ha introdotto nell'arco di mezzo secolo nella cultura giuridica nazionale un sistema che antepone diritti individuali di libertà, sicurezza, eguaglianza, sicurezza sociale, diritti economici, sociali e culturali indispensabili al libero sviluppo della personalità a quelli collettivi, in opposizione al fascismo che dava assoluta preminenza ai diritti della nazione. Ma tutto questo non è bastato per far raggiungere alle donne quella parità di diritti e di dignità che molti movimenti femminili e femministi continuano a reclamare ancora oggi perché, in questi anni, a coalizzarsi contro il percorso di emancipazione delle donne e di conquista di vera parità nei fatti, sono stati tutti insieme la tradizione, il pregiudizio, l'interesse sociale, economico e politico e antichi e intramontabili modelli culturali. La violenza sulle donne è il segnale più vistoso e di non dubbi interpretazione della resistenza di modelli di relazioni fra uomini e donne basati sulla soprafazione degli uni sulle altre, di subalternità coatta o frutto di educazione delle donne nei confronti degli uomini. Non sono riuscite a fare piassa pulita di questi comportamenti criminali neppure le leggi varate a partire dal 1996, da quando, cioè, lo stupro è stato riconosciuto come reato penale di violenza contro la persona e contro la libertà individuale, non più come violazione della morale pubblica e del buon costume, come è stato fino a quella data. Da allora altre leggi repressive nei confronti della violenza maschile e di prevenzione stanno tentando nel nostro paese di sradicare il fenomeno, che tuttavia si stenta, ancora oggi, ad accettare come strutturale, trasversale, spesso invisibile. Non sono bastate a migliorare la situazione né le leggi che dal 2001 al 2019 hanno introdotto nel sistema giuridico italiano misure repressive da un lato, di protezione della donna e dei figli dall'altro, né sono bastate la convenzione No More e la piattaforma Non Una Di Meno, con cui numerose associazioni femminili e femministe, tra queste in primis l'Udi Nazionale, a contrastare la violenza maschile e richiamare le istituzioni alle loro responsabilità e agli atti dovuti. Il fenomeno c'è e resiste. Le donne hanno certamente preso coraggio in questi anni e arrivano a denunciare in un numero sempre maggiore i fenomeni di violenza subite, soprattutto fra le mura domestiche e nella vita di coppia. Ma è molto, molto grave che ancora oggi, a fine del 2021, e la pandemia con il lockdown ha ingigantito il fenomeno della violenza domestica, si continui a fare la conta dei femminicidi, che quest'anno segnano un più 8% rispetto al 2020. Grazie. Grazie.